E' un progetto formidabile, noi l'abbiamo accolto a Blaccia Aperte perché è un progetto formativo per i nostri ragazzi ed è tra l'altro anche formativo per noi perché abbiamo partecipato più volte agli incontri nelle scuole ed è una cosa veramente partecipativa, importante, che diffonde questa cultura che è fondamentale per i giovani quindi apprendere da subito le nozioni sulla sicurezza e sulla legalità per coloro che saranno poi i cittadini e probabilmente anche gli amministratori del domani, quindi comunque sicuramente una bella esperienza che dovrà continuare perlomeno nelle nostre scuole. Sicuramente dovremmo collaborare, dovremmo interagire anche su questi temi magari allargare anche ad altre tematiche sensibili per i cittadini, per i giovani e che l'amministrazione comunale di Ardia sta portando avanti e che vuole diffondere nelle nuove generazioni. E' un'emozione vedere questi ragazzi che con questo entusiasmo hanno partecipato a questo progetto e che li ha resi veramente importanti perché si sentono davvero importanti e formati e ci stanno insegnando molte cose anche a noi.